Il golfista Tiger Woods ha vinto il Tour Championship, la quarta e ultima gara dei play-off della FedEx Cup, una competizione a cui partecipano soltanto i primi 125 giocatori in classifica al termine della stagione. Questa è l'ottantesima vittoria di Wuse nel circuito, la prima dopo 5 anni. In carriera Wuse ha vinto anche 14 tornei major ed è il secondo miglior giocatore di sempre per vittorie totali. Il monte premi da 10 milioni di dollari della FedEx Cup è andato invece a Justin Rose, arrivato primo nella speciale classifica a punti.Tiger Woods, 42 anni. È stato il miglior golfista in circolazione tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Nel 2009 la sua carriera aveva risentito di un divorzio burrascosso e di molti infortuni, che lo avevano costretto a 4 operazioni alla schiena. Nella primavera 2017, dopo un ultimo infortunio, Wuse aveva messo in dubbio che avrebbe mai giocato di nuovo ad alti livelli. Poi lo scorso agosto è tornato a competere per la vittoria in uno dei quattro major, arrivando secondo agli USPGA Championship.